... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Signorina in gioco, Carlotta Bulgarelli, andiamo a capire a quant'è. Contri i 50 mila anche lei, intanto Diego Fioranio lì. Fisticato! Lo chiama Gianni Giaroni, Jack Jack, contro 6 Jack, a fiori di Diego Fioranio. Preso pieno, vedete c'è un fiori, 9 di fiori, passo di quadri, donna di picca, un'altra donna ed è drawing dead. No, non è due, non l'altro, non l'altro, non l'altro, non l'altro. Eliminato Diego Fioranio è il mio consiglio di non farlo mai. Il mio consiglio di non farlo, è stato sfortunato, ma da 15 mila che fanno. Non sai che entra 15 mila, devi cacciare nel senso perché ne fanno. No, sì, perché siamo dietro su un posto. Io non l'altro, non l'altro, non l'altro. Io non l'altro, non l'altro. Se vedete le carte che vedete pure ragazzi. No, io è la prima figura che vedo. Due coppie, ma la figura è una figura. Per andare fuori, qualsiasi momento ci va avanti con la mattina.